Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale per un nuovo video ed oggi andiamo con un unboxing. È un microfono che mi è stato inviato da Randy Chain, che potete trovare in descrizione il loro sito internet e la loro pagina Instagram. E quindi oggi procediamo all'unboxing di questo microfono. Eccolo qua, apriamo. Questo è il microfono, gli l'avevo chiesto perché lo volevo provare, loro molto gentilmente me lo hanno inviato. Apriamo la scatola. E all'interno della scatola troviamo un ottimo imballo con un libretto di istruzioni. Libretto di istruzioni del microfono con le varie istruzioni, lo user manual, molto interessante, come va utilizzato. Che può essere utilizzato sia con smartphone su tablet oppure Mac che su delle fotocamere. e all'interno della confezione ci dovrebbero essere pure gli attacchi per tutto quanto, a parte la riduzione tra cable lighting e jack. Poi abbiamo un altro libretto dove ci sono i ringraziamenti in tutte le lingue. Procediamo, questo è il microfono, veramente carino, eccolo qua, microfono, questo è per appoggiarlo sulla fotocamera. Abbiamo questo, e poi c'è anche un ottimo gatto morto, veramente importante, eccolo qua. Vedete? Ottimo. Direi che è un ottimo prodotto anche per il prezzo, costa 29 euro su Amazon, veramente un ottimo prodotto, direi. Poi abbiamo il cavo jack jack per la fotocamera, come vedete. Poi abbiamo un altro cavo che è sempre jack jack, ma in questo caso per lo smartphone. Il cavo per lo smartphone, al quale chiaramente per Android va bene, se dovete metterlo con iPhone dovete prendere l'adattatore lighting jack. Poi abbiamo un altro, un'altra parte per attaccare il microfono. Quello qua. Non vedete? Poi abbiamo una chiavetta che sinceramente non riesco a capire a cosa serva. Non so se ci siano, boh, non lo so, però c'è anche questa chiavetta, forse è quando si va ad attaccare sulla macchina fotografica o la videocamera. Adesso lo proverò questi giorni e poi vi farò sapere. Comunque vi lascio in descrizione il loro Instagram, seguiteli, hanno anche degli altri prodotti che sono ottimi, penso, come questo microfono. Vi lascio il link dell'oggetto su Amazon in descrizione e vi lascio tutti i link ai miei canali. Se questo microfono pensate che possa piacervi, acquistatelo con il link a Amazon. E niente, ci vediamo presto con un altro video. Questo è stato un video veloce, un unboxing veloce. Vi porterò altri prodotti di altre aziende con le quali collaborerò in questo periodo. E ciao a tutti, mettete un like, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, supportate il canale. Ci vediamo presto con un nuovo super video. Ciao!